Giuseppe Conte, va detto, ha saputo guidare in modo deciso questa campagna elettorale che vedeva il Movimento 5 Stelle a rischio disfatta L'impegno sul campo, soprattutto al sud, terra fertile del reddito di cittadinanza ha dato una spinta non indifferente alla ripresa dei 5 Stelle E ora la risalita grillina mette in crisi proprio lo stesso movimento che in questo momento passa definitivamente dalle mani di Grillo a quelle di Giuseppe La rincorsa di Conte è partita da lontano, ha strappato con Draghi Non l'ha mai digerito a Palazzo Chigi, e poi ha dovuto gestire anche gli effetti della scissione volutata Lugi di Maio Di fatto l'ex premier si è liberato in un solo colpo dell'ombra di Gigino che è scomparso sotto l1% della figura di Grillo vissuto un po' come padre e padrone nelle stanze del Movimento Un passaggio di stato quello del Movimento che apre nuovi scenari all'interno e all'esterno dello stesso partito Gli equilibri sono stati rovesciati e di fatto l'Ala Conteana ha avuto la meglio su quella di Di Maio La sfida di Gigino è stata persa su tutti i fronti Una sconfitta come quella di Gigino è senza appello e adesso toccherà a Conte guidare la nave Ma va detto che senza il reddito di cittadinanza, il risultato dei 5 secondi sarebbe stato del tutto diverso